Ciao ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video scusate le mie condizioni pietose ma oggi ho ricevuto un buongiorno bellissimo che non è né quello del mio ragazzo, né quello di mia mamma, né quello del mio papà ma è quello del signor Battolini qual è il risveglio migliore insomma sono messa una maglia giusto per non fare il video con la maglia del pigiama e sono qui a mostrarvi che cosa ho preso perché sono stra stra contenta come sempre ho la mia coscettina e vi faccio vedere mi vedete struccata perché ho pensato di provare tutti quanti i prodotti che ho preso insieme con voi come al solito ci sono le cartoline informative all'interno non ve le so nemmeno a dire e poi ho preso in assoluto allora, promettiamo una cosa mi ero di promessa di non fare l'ordine come tutti sapete è uscito questo famosissimo primer neve e io ho detto questa volta non lo prendo non è una cosa che utilizza abitualmente no poi comunque vedendo delle review insomma a cui era stato inviato gratis e ho visto che era colorato e parlandone con mia madre mi ha detto ma dai prendiamolo l'utilizzerei anch'io che faccio? mi devo sentire in colpa perché lei non lo utilizza poi? no e quindi l'abbiamo preso allora, cavolate a parte i primer come sapete insomma se non lo sapete ve lo dico al volo sono due uno è per pelli secche ed è illuminante e uno è per pelli miste e grasse ed è appunto mattificante ovviamente noi abbiamo preso quelle per pelli miste e grasse si chiama bioprimer questo qui è il packaging sono 40 ml quindi un po' piccolino e ovviamente tutti i prodotti naturali no fragrance, no siliconi, no parabeni, no petrolati e questo qui in offerta e l'abbiamo pagato 9,90 euro perché in offerta adesso c'è questo c'è il 20% su tutti i fondotinta e le spedizioni dimezzate quindi come non approfittarne e quindi sono stra curiosa di provarlo e ora lo proveremo insieme poi, visto che era in offerta ho voluto provare il tanto decantato fondotinta compatto della neve che è il Flat Perfection come sapete io ho il classico fondotinta minerale l'Hell Coverage ma questo indubbiamente è molto più comodo lo apro adesso con voi è più comodo essenzialmente anche da portare in viaggio, in borsetta per dei ritocchi però ho letto che la coprenza è nettamente più bassa però sinceramente io ho grandi problemi cioè adesso sono struccata lo so sono un mostro sono bianca come un cadavere però insomma grandi problemi di brufoli o macchi o punti neri non ne ho quindi c'è un fondotinta da un po' coprente nemmeno mi serve che bello appare così con lo specchio e sotto dovrebbe anche avere lo spazio per la spugnetta che io sappia ma forse sbaglio perché non penso si apri quindi proverò anche questo qui con voi e poi ho preso perfettina non so se l'avete mai sentita è una matita labbra trasparente per fare il contorno e vi sono comprato un altro passalo labbra l'altro giorno che è sfilata che è bellissimo però rispetto agli altri è molto più morbido io tendo un po' a vagare in giro idem il rossetto che vi ho fatto vedere nel tutorial dell'autunno lo so magari vi lascio qua il link un rossetto L'Oreal bellissimo molto intenso ma anche quello vaga un po' in giro e non ho cioè comunque non è che posso comprare matite per ogni rossetto quindi insomma questa penso sia una valida alternativa ah non vi ho detto nemmeno il prezzo del fondotinta il fondotinta l'ho pagato 11,92 euro mentre questa qui 6,80 euro come al solito ho chiesto anche un omaggio e ho chiesto un passalo labbra prettamente invernale che è vino come vedete omaggio e anche questa voglio straprovarla con voi quindi io direi di iniziare subito tiro indietro la frangia oggi mi vedete proprio nelle condizioni più pietose possibili immaginabili io andrei a stendere subito il primer su tutto il viso lo sto prendendo con voi questo è il mio vizio di annusare tutto effettivamente più che un prezzo mi sembra tipo una BB cream vedete è colorato ne applico poco per volta e vedo un attimino ecco qui come vedete allora il colore praticamente mentre lo si stendi quasi si annulla cioè io non so se voi lo notate con le luci e tutto ma la pelle rimane cioè è molto molto compatta uniforme e anche sembro già un pochino più bellina no mi piace molto è praticamente in odore molto molto leggero cioè si stende tranquillamente come una crema come avete visto l'ho steso con le mani senza né pennello né niente e è già asciutto cioè questa è la cosa ecco questa era la mia più grande paura che risultasse un po' appiccicaticcio e non potessi poi truccarmi subito invece no assolutamente è già asciutto prima impressione direi assolutamente ottima ora tocca vedere anche se è davvero mattificante come dice anche se io non ho grandi problemi di lucidità a parte magari un po' nella zona T ma non ne ho grandi quindi insomma non è che faccio molto testo su questa cosa però c'è così l'effetto che fa mi piace molto ora vado ad applicare un correttore perché ho queste occhiaie pazzesche io utilizzo l'Instant Anti-Age della Maybelline e ora facciamo proprio un trucco velocissimo sugli occhi vado ad applicare su tutta la palpebra il pastello gioia cioè non so nemmeno se si vede a dire la verità è giusto per dare un tocco di luce agli occhi e applico al volissimo il mascara Pupa Vamp comincio a prendere delle sembianze umane allora andiamo a provare il Flat Perfection allora ho letto 2000 pareri su come applicarlo ho letto che finisce in frettissima questo lo sembra un po' atturbato perché a me di più fondotinta durano una vita e potrebbe essere applicato sia con un pennello diciamo grande normale o con un pennello e un Flat Boogie per una coprenza diciamo un po' più più forte io lo voglio provare ad applicare appunto proprio con un Flat Boogie io utilizzo questo qui ho preso la stessa madonna è polveroso ho preso la stessa tonalità del mio fondotinta minerale come colore assolutamente ci siamo allora è molto più polveroso e quindi magari tocca un attimino sperimentare come usarlo magari con un piumino proverai anche per diciamo renderlo un pochino meno polveroso e effettivamente è vero è meno coprente però mi piace anche di più a me da una parte perché quello minerale per quanto io lo ami essendo comunque parecchio coprente mi va a evidenziare alcuni pori dilatati che ho qui non ne ho tanti però insomma ce l'ho invece con questo qui non si vedono nemmeno e mi piace perché comunque uniforma benissimo l'incarnato mi piace molto fatemi sapere voi se ce la vedete insomma visto che questo so che comunque va tantissimo con cosa lo applicate se con pennelli con spugnette fatemi sapere passiamo alle labbra allora traccio il contorno con perfettina più che trasparente non so se lo vedete è praticamente tipo rosa chiaro che sulla mia carnagione pallidissima è perfetta praticamente la sfumo un po' col dito ok e ora andiamo a provare il pastello vino meno male che l'ho presa come omaggio e non l'ho comprata perché non mi piace per niente cioè il colore è bellissimo ma è durissima cioè durissima ha anche un odore strano ma è durissima e come vedete non è venuto un risultato omogeneo perché non riesco a stenderla no è veramente troppo troppo dura peccato perché il colore è assolutamente bellissimo ma è secchissima e durissima cioè non non lo so non mi convince per farvi vedere la differenza mi strucco un attimo le labbra vi faccio vedere sfilata che ho comprato l'altro giorno che anche in confronto a finicottero che ho è molto molto più morbida e mi dura tantissimo l'altro giorno mi è durata tipo 12 ore cioè è una cosa allucinante mi strucco un attimo le labbra e ve la faccio vedere tanto per farvi vedere anche la differenza a livello proprio di omogeneità eccola qui tra l'altro c'è casca tutto tra l'altro ho messa super alvorissimo giusto per farvela vedere ma io non so come spiegarvi è di una morbidezza allucinante sembra proprio di aver messo un rossetto mentre quest'altra non mi piace per niente io non so nemmeno magari se provare a contattare neve perché aderì anche non vorrei boh perché cioè sfilata è in odore come tutti gli altri pastello questa buzza boh questa cosa è stranissima vabbè e infine insomma perché così non lo posso vedere metto un pochino di blush utilizzo jam di neve e niente ragazzi a parte questo piccolo inconveniente di vino ma insomma magari vi farò sapere tramite commenti se ho contattato neve cosa mi dicono perché mi turba un po' questa cosa ma sono stra contenta sia del primer che di perfettina che del fondotinta fatemi sapere voi cosa vi è piaciuto di più se avete intenzione di provare il primer vi ricordo che ci sono ancora le offerte sul sito se non sbaglio fino a metà mese qualcosa del genere quindi magari fateci un salto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao 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 ciao